Ciao a tutti ragazzi sono Lucchetto benvenuti nel canale anche oggi appuntamento Monster Hunter Generation e siamo pronti prendiamo gli oggetti mi sa che si dimentica di prendere gli oggetti siamo tutti pronti squadra fortissima andiamo a caccia di un Devil Joe un dinosauro arrabbiatissimo distruggi un Devil Joe nel canale ghiacciato è apparsa un orribile belva più feroce e fruttore di tutte le creature che abbia mai visto ti consiglio di fare testamento prima di andare in spedizione è abbastanza forte abbiamo messo la armatura del Tetsukabra che è l'abilitante sismico così lui non ci darà fastidio perché ha delle attacchi che muovono con le zampone allora dove siamo? mi sono perso non è di qua? è di qua? non è di qua? dove sarà? chi è? andiamo di qua? vediamo se da questa parte andiamo alla ricerca del Devil Joe non scelgo da nessuno aperti? ok sopra ok continuiamo dove sto andando? chiaro che stiamo arrivando e quindi nella grotta hanno già marcato che ci siamo eccolo la ho sempre ho rimesso la spadascia stile aereo e vai che si cavalca non si cavalca ah cacchio ho sbagliato ragazzi ho lasciato lo stile ombra di prima va bene così impariamo anche lo stile stile ombra con la spadascia che è grande ragazzi hanno messo la carne che l'hanno montato quindi sono già tanti con lo stile aereo quindi vabbè andiamo con lo stile ombra facciamo danni grande l'hanno cavalcato ottimo io punto la coda ragazzi sembra un cetriolino un grande cetriolo un sottaceto ragazzi attacchiamo con la nostra modalità spada e mi sono anche dimenticato di mettere la l'arte e si perché switchando armi ti toglie sia l'arte però ti mantieni lo stile quindi ho lo stile ombra di prima dello spadone senza arti bene fa niente ci riterichiamo ah e si no io non salto ok c'è già Mark che sta saltando no di nuovo Jake Mark non sta cavalcando oggi come mai aiutamolo a cavalcare grande così vai Jake vai sulla coda tutto sulla coda non colpendosi c'è anche Mark sulla coda vai due persone è grande così mamma mia ci siamo riusciti non tenendo la coda perché dà fastidio molto grande abbiamo uno sperone ok si è arrabbiato ragazzi adesso è a questo tipo questo allone rosso ha due card dalla coda ok grande attenzione che fa questi passi da gigante il devil joe è un dinosauro bruttissimo ok io posso resistere ai suoi premori grazie all'armatura del non vedo niente ragazzi non ci incastriamo non ci incastriamo attenzione il soffio del drago è l'ho presso in pieno il soffio del drago niente devo togliere da qua un altro soffio del drago ci curiamo ok andiamo di nuovo all'attacco ahia guardate anche con la coda mozzata prende c'è la puntina di coda non so cosa l'hanno messo la bomba aletana può darsi grande ragazzi ok è anche caduto ah ragazzi io posso fare anche l'attacco già la scarica senza saltare giustamente nei posti le gilda carichiamo di nuovo la spada ancora ragazzi abbiamo più il combo bam bam ok ragazzi viene così per un'altra scarica bombe te scarichiamo la spada lo stile ombra somiglia molto allo stile gilda mi sa che toglie qualche cosa facciamo con l'ascia perchè abbiamo più range attenzione abbiamo preso proprio un colpo in faccia ragazzi andiamo indietro perchè fa l'attacco drago sto proprio nel culo ci curiamo c'è qualche sveluccichino da prendere no ci facciamo solo la cute e siamo pronti ad andare a fargli tanto male no secondo me non viene il davigio con il corno ragazzi dobbiamo andare noi e devo fare anche la bistecca quindi aspettiamo anche i ragazzi siamo tutti insieme siamo una squadra da fortissimi ok sono entrato se mettono un'altra carne lui se la mangia attenzione grande scriviamo l'urlo e vai e scriviamo sempre anche qua vai vai scriviamo anche il soffio del drago adesso impariamo anche i tempismi per schivare e vai mamma mia è chiesto si le ombra è troppo forte si le ombra va bene dipende da come giocate se volete cavalcare il mostro si le aereo se volete schivare tutte le tutte le combo del mostro i copi del mostro vai si le ombra qua sono gli zamite o gli zamite che vanno fa si tipo gli squaletti dello zamtreos vai bom 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 ragazzi sta sbavando se qualcuno ha la carne dategli la carne o lo cavalcate ma si si cavalcate io nel frattempo mi curo con una mega portion obiettivo secondario chiudiamo il suo mosso mosso chiudiamo ancora è molto enorme ok grande è sempre jake lo salta i'm on it watch out eh si se siete in mezzo alle gambe ragazzi non vi colpisce facciamo tanti danni trasformiamo in ascia vai a combo infinita è stato in trasformazione non lo possiamo fare perché non abbiamo la barra per la spada ragazzi è caduto mamma mia quanti danni va di nuovo bom bom mettono la trappola grande mi sa che non si può catturare si cattura ragazzi grande grande catture oggi ragazzi vi consiglio sempre di giocare con gli amici vi divertite tantissimo e alla prossima ragazzi ciao 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 ciao